Il parcheggio selvaggio continua a creare forti disagio agli abitanti e ai pedoni che transitano quotidianamente per via Pitagora. I marciapiedi sono occupati dalle macchine e i pedoni sono costretti a camminare sulla strada, rischiando di essere investiti da auto in transito e motorini che corrono a tutta velocità anche sui marciapiedi. Per i residenti di via Pitagora la situazione è diventata ormai ingestibile. Non è giusto che si mettano sui marciapiedi, questo è sicuro, però bisogna dare anche spazio alle macchine di poter posteggiare regolarmente. La mattina non si può circolare, non c'è una via di fuga, perché se dovesse succedere un imprevisto, un pronto soccorso, una cosa qualsiasi, non c'è una strada di emergenza, è una via di fuga, è molto pericoloso anche sotto questo punto di vista. I marciapiedi sono resi impraticabili anche da diversi cumuli di spazzatura che vengono posizionati proprio al centro del passaggio pedonale, in attesa che il servizio di raccolta rifiuti completi il suo giro. Per dare agio ai ragazzi che vanno a scuola, passano di qua, non c'è marciapiedi e i bustini, o voler o non voler, sono in due, in tre, coi piedi si spostano. Ho detto, quando è la plastica, la alzo, che non è umido, e la metto a pesa, così non disturbo. Io gli alzo del rispetto. Nel periodo scolastico la situazione a Piano Notaro peggiora notevolmente. Gli automobilisti che transitano in via Pitagora nelle ore di punta sanno già che affronteranno un lungo calvario. Nelle ore di ingresso e uscita degli studenti si formano code chilometriche. Le auto parcheggiate in modo sconsiderato rendono difficili le manovre a chi esce da un parcheggio. Vengono impediti il transito e la corretta viabilità. Ciò provoca quotidianamente diverbi e litigi tra genitori nervosi e residenti esasperati. Dopo tante segnalazioni, solo ieri una volante della Polizia Municipale è intervenuta per regolare il traffico, impedendo alle auto di sostare sui marciapiedi. Stamattina tutto è tornato come prima, e ancora una volta i pedoni hanno dovuto fare lo slalom tra automobili e motorini. Ieri c'erano qui la Polizia Municipale che stava provvedendo allo sgombero di queste macchine che sono tutti i marciapiedi. Sono rari, sono rari. Ogni tanto passano, dipende se fanno in giro, controllano, dipende dai loro compiti che hanno. Ad aggravare la situazione, anche le piante posizionate da alcuni residenti per assicurarsi il parcheggio davanti all'uscio di casa e i distanziatori di cemento che riducono ulteriormente lo spazio di transito in sicurezza per i pedoni. Grazie. Grazie.